Ciao a tutti! Questo è il terzo makeover della playlist dedicata ai cambiamenti di genere degli youtuber italiani. Le scorse puntate hanno avuto come soggetti Snitex e FabJ. Se non le avete ancora viste, vi lascio il link in descrizione e tra le handcard. Qualcosa mi dice che volevate Strapni oggi? Parliamone quindi! È nella top 10 dei canali in italiano con più iscritti. Ne vanta attualmente più di 2 milioni e 300 mila. È un game player, e sapete che io non ho la passione per questo genere. Non sono quindi una sua iscritta, ma mi è capitato di vedere qualche altra sua forma. Lui appare talvolta nei vlog di FabJ e fa parte di un gruppo di appassionati di videogame, i Mates, assieme a Serial Power, Anima e Vegas. So che segue Marco Togni, che a sua volta gli ha dedicato una buffata di sushi. La cosa però non mi stupisce, perché Stefano Lepri, questo è il vero nome del protagonista di oggi, ha una serie dedicata al cibo. Rientra quindi nella tradizione del mukbang. Se non sapete di cosa stia parlando, ho un interessante video al riguardo. Vi lascio le informazioni in descrizione. Mentre cercavo l'immagine per questo makeover, mi sono imbattuta in un paio di simpatiche foto caricate da Stepney su Instagram. A quanto pari si dilettano i fotomontaggi. Ammiratelo in queste versioni... da pollo. Penso inoltre che sia curioso di sapere che look avrebbe, se fosse donna, a giudicare da quest'altro lavoro grafico che sono riuscita a scovare. Non vi preoccupate, questo video sarà la risposta a tale interrogativo. Sarebbe divertente vedere la reazione di Stefano. Magari, con il vostro aiuto e un po' di fortuna, potrà capitare su questo canale. Saluto intanto eventuali suoi fan. Come sempre, ricordo che questo contenuto non ha nessuno scopo offensivo o denigratorio, ma è semplicemente un modo per esercitarmi e intrattenere. Come sanno già i miei iscritti, potete suggerirmi nei commenti lo youtuber che vorreste vedere nella prossima puntata. Per i nuovi arrivati, ricordo inoltre che attualmente realizzo solo makeover da uomo a donna. La trasformazione che state guardando in questo momento è il mio secondo tentativo. La prima scelta, infatti, era ricaduta su una delle foto in cui Stef mi sorrideva, ma l'inquadatura ha reso impossibile modificare in maniera realistica i denti, per renderli più adatti ad un viso femminile. Ho optato quindi per questo selfie, che fortunatamente ha pure una visione frontale. In questo modo ho potuto usare la Female Golden Ratio Mask, della quale ho parlato lo scorso episodio. Come sempre, sto lavorando con Photoshop CS6. Vi ricordo che se volete essere salutati alla fine del video, dovete iscrivervi al mio profilo Instagram e lasciare un commento qui sotto. A seconda del numero di richieste, potreste dover pazientare un po'. La musica di sottofondo è Time Stand Still di Saphiros. Ora ve la lascio ascoltare meglio. Ci sentiamo alla fine. La musica di sottofondo Missồng. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.